salve amiche e amici allora immaginate di dover raccontare a un giapponese o una giapponese in questo caso commentare questa notizia insieme quindi ho cercato di spiegarle cosa significa vivere in un paese dove un freccia argento parte con 50 minuti di anticipo per poter arrivare in ritardo quindi insomma vi lascio immaginare quello che è successo in stazione comunque sì l'italia è anche questo allora oggi vi porto tante notizie che commenteremo insieme infatti poi farò molta attenzione a leggere anche i vostri commenti come sempre perché poi ne approfitto anche per rispondere ad alcune critiche che ho ricevuto da alcuni commenti che ho colto anche per poter parlare di certe tematiche che affronteremo oggi che riguardano le forniture francesi all'ucraina un dibattito in seno all'unione europea poi alcune notizie che riguardano la futura amministrazione trump eventuali discorsi di pace o almeno quello che sta combinando la russia in questi giorni enormi le enormi perdite che sta subendo sul fronte ucraino parleremo della situazione al fronte e di anche altre notizie che riguardano i media quindi mettetevi comodi come sempre se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace anche a questo video allora tolta questa notizia simpatica dei nostri del nostro sistema ferroviario passiamo a la primo ministro estoneca già callas che adesso si sta occupando appunto come referente per la sicurezza dell'unione europea infatti in quanto c'è stato dopo appunto il discorso di fitto non entro nel merito perché appunto non mi occupo di queste cose però vi faccio sentire quelle che sono state il botte risposto risposta fra lei è un certo personaggio che è arrivato anche lui al parlamento europeo sentiamo grazie presidente parlerò italiano secondo il rapporto draghi che è diventato il vero guru di questa nuova commissione la crescita ridotta e la perdita di produttività dell'unione europea è dovuta a tre fondamentali cause esterne di cui due sono la perdita del più grande fornitore di energia dell'unione europea ovvero la russia e la seconda la rimessa in discussione degli equilibri geopolitici e la crescita delle tensioni internazionali lei come alto rappresentante designato ci può dire per favore quali sono i primi tre provvedimenti solo i primi tre per uno recuperare il più grande fornitore di energia dell'unione europea ovvero la russia due appianare le tensioni internazionali e quindi porre fine alla guerra tra russia e ucraina grazie grazie la relazione draghi effettivamente è stata un'ottima relazione ha fornito tanti spunti di riflessione ai vari commissari che coprano al collegio per quanto riguarda la difesa draghi dice chiaramente che dobbiamo cooperare per quanto riguarda la fornitura energetica abbiamo un commissario per l'energia nel collegio dei commissari il commissario si occupa di più di energia rispetto a me e poi per quanto riguarda l'alta rappresentante ecco il mio settore di perizia riguarda i partenariati di ampio respiro dove affrontiamo anche le questioni energetiche lì parliamo per esempio con i paesi del mediterraneo o paesi al di fuori della regione che da parte loro potrebbero fornire energia al nostro continente come porre fine alla guerra la guerra finirà quando la russia si renderà conto di aver fatto un errore come in afghanistan quando ritirerà le truppe visto che si renderà conto di non poter vincere in ucraina idem si dica qui se sosteniamo l'ucraina e diamo l'ucraina un sostegno determinato ebbene la russia si renderà conto di aver fatto un errore e di non poter vincere questa guerra quindi queste sono le parole ora penso che il sostegno all'ucraina sia un argomento piuttosto attuale anche se ormai va avanti da quasi tre anni e voglio dire i progressi sul campo le forze ucraine li stanno ottenendo anche grazie a noi ma questo è un discorso ad ampio raggio chiaramente però ecco mi sono collegato a questo spunto semplicemente perché ancora oggi a distanza di quasi tre anni sopravvivono certe prese di posizioni anche nel nostro paese e su queste poi mi collegherò più avanti quindi partiamo già con il primo commento che ho ricevuto nei giorni scorsi che appunto riguarda le forniture francesi dove la francia ha dimostrato una certa iniziativa il discorso delle iniziative francesi è particolare nel senso che la Francia è parte fondamentale dell'Unione Europea ma come devo dire è una nazione che tiene molto alla propria indipendenza e agisce in maniera autonoma e lo sta facendo diciamo in maniera molto più puntuale rispetto ad altri paesi come per esempio il nostro che in qualche modo ha fornito supporto all'Ucraina un po' a singhiozzo il discorso a quindi che a cui mi voglio collegare è legato proprio alle forniture francesi infatti un utente un certo geronimo project engineering quindi immagino che sappia il fatto suo da un punto di vista ingegneristico mi scriveva dato che avevo già accennato alle forniture di mirage francesi e i missili scalp fra l'altro riguardo agli armamenti citati nel tuo video purtroppo sono vetusti lo scalp è del 1994 l'elicottero mi 24 del 72 roba da museo e la serie attuale mi 35 è la più aggiornata poi i missili matra 5 e 30 sono pessimi venivano utilizzati nella guerra delle falcland e venduti ai paesi del terzo mondo purtroppo questa è la situazione allora cari caro geronimo stiamo parlando di una fornitura francese di mirage 2005 f quindi non è neanche la prima serie che era un intercettore puro ma qui si parla di un aereo multiluolo che ha molte più capacità in termini di avionica e carico rispetto alla versione base del mirage 2000 tra l'altro riporto questa notizia nel senso la francia ha confermato l'invio di sei mirage 2005 f anziché due come era stato accennato nei primi mesi in questi giorni fondamentalmente entro i primi mesi del 2025 ma oggi appunto viene riportata la notizia di invio di sei mirage 2005 f il mirage 2005 f utilizza gli stessi equipaggiamenti che utilizza anche il rafale che è l'aereo più moderno che la francia utilizza a partire dal missile termico a corto raggio magic che è entrato sì in servizio a partire dal 1975 come unico concorrente occidentale dell'an 9 americano lo vediamo in questa immagine sul pilone esterno è un missile che ha conseguito un notevole successo in termini di esportazione forse ti riferivi a quello potendosi integrare in qualcosa come 19 tipi di aeroplani diversi sulla base del magic del 76 poi sono stati sviluppati il pl 7 cinese e il sudafricano u darter ovviamente oggi i mirage non utilizzano la versione del 75 ma il magic 2 che è operativo dall 85 è la seconda generazione di questo missile con un sensore termico passivo più moderno che ha sostituito in toto l'hardware del modello precedente il cono di ricerca ha un'apertura di più e meno 70 gradi il missile ha la capacità detta all aspect cioè può essere tirato su aeroplani che scappano via dal mirage come su aeroplani che gli vengono incontro con un range minimo di 550 metri quindi ideale per il corto raggio sotto i 550 metri si possono usare solo i cannoncini fino a 20 chilometri e più di range massimo è un missile che poi è dotato di un autopilota indipendente per il tratto terminale e si integra fra l'altro con le capacità di acquisizione del mirage per esempio nella modalità silenziosa di acquisizione in tvs che è un soft block può manovrare fino a 55 g e una spoletta ha una spoletta di prossimità che sfrutta le frequenze radio doppler di prossimità per ottimizzare le possibilità di successo il missile poi è stato anche aggiornato per integrarsi con le moderne avioniche del Rafale e i suoi sensori passivi permettendo così al pilota di tracciare oggetti intorno a sé con il caschetto a 360 gradi e poi tirare il missile le forze armate che utilizzano il magic 2 sono grecia egitto spagna quate emirati arabi aviazione e marina francesi per modelli appunto come il mirage 2000 cd ed n il mirage 2005 mk2 il super e tendard e il rafale la velocità massima è di 2000 scusate 2,7 mac per 89 kg di peso e 12,5 kg kg di esplosivo questo è un missile per il corto raggio poi visto che hai parlato del matra 530 definendolo come un missile vetusto e lo vediamo in questa immagine tra l'altro questo fu un articolo famoso che a torino venne sequestrato uno di questi missili beh il matra 530 non esiste più in produzione è stato sostituito dal super matra 530 che è quello che viene utilizzato ancora oggi dalle forze francesi e che verrà probabilmente anche questo dato alle forze aeree ucraine si parla di un missile semiattivo a medio raggio ed è l'evoluzione appunto del matra 530 che inizialmente fu sviluppato per il vecchio mirage 3 del 1963 il super matra è stato prodotto in due versioni poi una radar semiattiva e l'altra a ricerca infrarossa la versione semiattiva iniziale degli anni 60 come tutti i missili del tempo aveva prestazioni e ratio di successo molto bassi forse è per questo non so avrai letto da qualche parte le notizie sul vecchio missile e ti hanno portato a dire che è un missile scarso ancora oggi questo così portò allo sviluppo del super matra 530 f come arma principale del 2000 del mirage 2000 b e c che erano intercettori puri che sono entrati in servizio a partire dagli anni 80 oggi ripeto l'ucraina avrà a disposizione la versione più moderna del mirage la 2005 f che insomma è un'altra storia rispetto alla prima versione comunque la prima versione del matra 530 f fu sviluppata per operare principalmente dalle medie e alti attitudini la versione più aggiornata la di che è tutta un'altra storia e che in servizio ancora oggi ha migliori caratteristiche di volo anche a bassa quota e fra l'altro ha introdotto anche un'antenna di ricerca a di 26 che lo rende parzialmente autonomo quindi non è più solo un missile semiattivo nonostante comunque necessiti la guida dell'aereo lanciatore e in particolare comunque è un missile più resistente alle contromisure elettroniche rispetto al modello precedente quindi è un bel missile per il medio raggio per il bvr con prestazioni nell'ordine di mac 4,5 fino a 50 g di accelerazioni tollerabili e manovrabilità è una guida attiva e semiattiva le prestazioni di questo missile sono paragonabili all'aim 120 amram 120b americano ed è decisamente superiore all'aim 7 sparrow americano anche questo era un missile ed è ancora oggi in servizio come missile semiattivo poi in questa foto fra l'altro vediamo se la becco questa foto vediamo equipaggiato il mirage 2005f per cui non sappiamo se poi i francesi daranno anche i relativi missili non si parla tanto di matra 530 ma si parla del missile mica che anche questo ha due varianti una radar attiva e l'altra a guida infrarossa insomma è il primo vero missile francese descritto come multitasking multi target per ingaggi oltre la linea visiva comunemente chiamata bvr lo stesso Rafale può trasportare fino a 6 di questi missili e così anche il mirage 2005mk2 come in questo caso questa immagine dove sta insomma è un missile già di tutto rispetto che è paragonabile all'aim 120c americano può raggiungere accelerazioni fino a 50 g per un raggio di intercetto fino a 60 km e quindi mac 4 di velocità ha superato con successo oltre 100 test a partire dagli anni 2000 ok quindi fra l'altro lo sviluppo della versione IR quindi a guida infrarossa è da considerarsi come risposta più moderna all'R27ET di produzione russa con i conseguenti enormi vantaggi per un utilizzo in configurazione stealth dal momento in che per poter essere lanciato non ha bisogno del lock radar quindi sia che si parli del Mika che del super matra 530 di si parla di ottimi acquisti per l'ucraina che ne ha assoluto bisogno qui vediamo il Mika IR per esempio poi per quanto riguarda l'elicottero d'attacco e da trasporto multiruolo Mi-24 è entrato in servizio nel 72 non negli anni 60 comunque la versione P e la versione V forniti agli ucraini in particolare la versione V è stata concessa dalla Finlandia è operativo dal 1976 con avioniche e missili migliori i russi comunque non è che sono gli ucraini non sono i soli a utilizzarlo perché viene utilizzato anche in Russia ci sono poche versioni più moderne chiamate Mi-35 che poi è quella per l'esportazione in realtà in ogni caso i russi anche utilizzano armi piuttosto datate lo abbiamo visto in questo conflitto stiamo parlando di carri armati degli anni 50 e 60 appunto T-50, T-62 dove questi numeri stanno a indicare l'entrata in servizio fondamentalmente ma lo stesso vale per gli aerei anche i russi utilizzano molti aerei che volavano ancora quando c'era l'Unione Sovietica fatto sta comunque che a prescindere dall'entrata in servizio degli elicotteri sono comunque oggetti molto vulnerabili a prescindere non importa quanto siano moderni abbiamo visto insomma quasi questi tre anni che i russi hanno perso diversi elicotteri molto moderni come per esempio il K-52 per quello che devono farci gli ucraini questo elicottero va più che bene infatti lo abbiamo visto tante volte utilizzare la sua Gatlin per distruggere e intercettare i droni che è chiamato ad attaccare oppure per fare fuoco di soppressione o artiglieria volante lanciando i suoi razzi non guidati se poi parliamo del missile Scalp beh definirlo datato insomma è entrato in servizio nel 2002 per intenderci lo Storm Shadow che è un po' l'analogo tedesco è considerato un'eccellenza di prodotti della tecnologia europea è entrato in servizio nel 2003 stiamo parlando di missili molto moderni cioè se proprio una persona intende di ingegneria questo dovrebbe saperlo benissimo che gli anni di entrate in servizio delle tecnologie militari non sono come quelle delle automobili per cui un'auto del 2005 è considerata un 14 o non funziona così insomma se consideriamo per esempio i missili da crociera russi più moderni sono entrati in servizio come per esempio lo M123 nel 2005 il calibro nel 1994 il KH32 nel 1990 il più moderno nel 2012 il KH38 e ci sono stati pochissimi prossimi KH101 fra l'altro uno di quelli ha colpito proprio l'ospedale pediatrico qualche tempo fa per chi se lo ricorda che è uno dei missili più moderni russi che hanno volato sull'Ucraina è entrato il primo lancio avvenuto nel 1999 e ha visto un po' la luce e lo scenario operativo a partire dal 2012 quindi queste sono le tecnologie in campo voglio dire definirle datate non credo alla fine per esempio un aereo come il Su-25 che è un aereo degli anni 60 è un aereo considerato ancora molto efficace per fare per esempio la soppressione delle difese aeree la CAS cioè non vuol dire niente prendiamo un A10 americano lo stesso modo o un F-16 l'F-16 attualmente nello scenario ucraino è un aereo decisamente attuale che può ancora esprimere pienamente le sue potenzialità soprattutto perché gli ucraini volano ancora con MiG-29 come questo che vedremo fra poco restando nel tema delle forniture fra l'altro ecco anche questo sempre per fare un discorso di datazione gli ucraini stanno ricevendo discreti numeri di M7-12 Copperhead che è una munizione per l'artiglieria laser guidata la vediamo in questo video quest'arma è molto interessante perché una volta lanciata con un normale cannone da artiglieria come vedete è in grado di direzionarsi con un'assoluta precisione su qualsiasi cosa carri armati e altri tipi di persagli ed è insomma un'arma molto tecnologica che è stata sviluppata a partire dagli anni 70 quindi anche qui sulle datazioni e sull'entrata in servizio bisogna un attimo ricredersi vedete qui si parla degli studi condotti a partire dal 1972 e l'arma è entrata in servizio con un numero discreto di qualcosa come 16.000 pezzi per l'esercito americano a partire dall'inventario e appunto aggiornato al 1995 quindi questa è un'ottima notizia per gli ucraini così come per esempio la fornitura della AASM bomba guidata con diversi tipi di guida sistemi di guida inerziale infrarosso GPS è un'arma che ha una precisione comprensiva fra 1 e 10 metri quindi studiata apposta per colpire infrastrutture ed è perfettamente compatibile anche con i MiG-29 MiG-29 che sono anche questi aerei degli anni 70 la prima serie tra l'altro la più screusa che potevano avere gli ucraini che era presente ancora negli assetti tedeschi quando c'era ancora l'Unione Sovietica e che sta dimostrando la sua efficacia nello scenario ucraino qui vediamo un pilota ucraino vestito da Babbo Natale che fa consegne e pacchi per l'esercito russo qui lo vediamo lanciare per esempio due AGM-88 missili antiradiazione americani questi missili sono molto efficaci soprattutto nella versione E che è ultramoderna nonostante anche questo missile sia degli anni 80 alla fine ora non posso farvi sentire l'audio perché c'è la canzoncina di Natale Jingle Bell bene parliamo delle perdite anche qui mi collego a un altro commento che ho ricevuto e lo leggo giusto per darvi un'idea in cui un certo Kevin mi scriveva propaganda per propaganda i russi hanno conquistato dal 6 agosto più di mille chilometri di territorio ucraino e persino i giornali italiani pro-Ucraina lo hanno riportato inoltre gli ucraini stanno perdendo territorio conquistato in Russia dal famoso 6 agosto uno sfacelo inutile di uomini e mezzi per non arrivare a nessuna trattativa Zelensky deve tornare a fare il comico perché come presidente è il peggiore di tutti ok allora qui un po' non so come commentare nel senso un po' diciamo sono in disaccordo sul fatto che per alcuni evidentemente le responsabilità sono tutte del presidente sono tutte dell'uomo al potere come se non ci fosse un parlamento come se non esistesse un governo e il popolo in grado di gestire la cosa questo lo vedremo anche fra poco insomma è un po' come no dare la colpa di tutti a Giorgia Meloni o chi per lei insomma il presidente di turno è un po' è molto molto riduttivo senza contare poi che in quasi questi tre anni c'è stata una continua disinformazione diciamo schierata in atto da parte del cremlino per infangare il nome di Zeresky in cui circolavano voci che insomma facesse uso di droghe che la moglie andava in giro in bugatti va bene comunque ecco molti presidenti della storia tanto per citarne uno Reagan anche lui era un comico che fra l'altro recitava insieme a una scimmia nella sua all'inizio della sua carriera come comico quindi voglio dire non vuol dire niente se una persona è dotata è dotata e poi c'è comunque c'è un governo dietro di lui ok non è che è l'uomo più potente dell'Ucraina che decide e fa e disfa tutto quello che vuole del proprio paese non è un dittatore ok comunque per quanto riguarda le notizie che arriva arrivano da Kursk oggi ne approfondiremo perché in questi giorni stiamo vedendo qualcosa di un'ecatombe ecco per dirla in termini tecnici infatti il Cremlino ha deciso di puntare il tutto e per tutto probabilmente anche per una questione di futuro insediamento di Trump per una questione di trattative e a quanto pare quello che possiamo dedurre è che dal Cremlino sono arrivati ordini di riconquistare a tutti i costi la regione di Kursk non importa a quali perdite e le perdite in questi giorni sono assurde nella regione di Kursk qualcosa come 1770 i record continuano a susseguirsi perché un giorno dopo l'altro ne arrivano sempre di più sono stati schierati qualcosa come 50.000 uomini nella regione di Kursk e adesso andremo a vedere quello che è successo i rapporti da quest'area insomma parlano di perdite enormi enormi ok allora insomma ci sono qualcosa come sono stati respinti 5 assalti solo nella zona di Novoianica nella regione di Kursk e questa questa immagine vi mostra che per esempio gli ucraini non stanno perdendo territorio in realtà questo è riportato ieri lo hanno riconquistato il territorio e queste iconcine raccontano fatti e video che ti sto per raccontare in poche parole la filosofia è questa mandate avanti gli uomini non importa quello che costa purché riescano a guadagnare territorio da parte russa ora dal momento in cui nella regione di Kursk gli ucraini non hanno creato trincee non hanno costruito fortificazioni probabilmente la filosofia russa è quella proprio questa pensano che non ci siano ostacoli e mandano avanti i loro BTR i BMP questi mezzi su ruote li mandano a tutta velocità contro le posizioni ucraine per cercare di raggiungere i villaggi quindi corrono a tutta velocità diretti verso il fuoco di sbarramento ucraino e il risultato è che vengono sistematicamente distrutti e ognuno di questi contiene uomini ok bisogna ricordarlo cioè di fatto quello che sta succedendo è un vero e proprio massacro cioè un carnaio il numero continua a salire poi ci sono anche rapporti dei tentativi di superare il fiume anche in questo caso non vi posso fare vedere i video insomma dobbiamo adesso vi faccio vedere solo alcune tre fotogrammi che raccontano un po' il copione di questi tre anni quasi tre anni di conflitto dove il drone questo è l'ultimo momento prima che il drone arrivi a colpire il camioncino stipato di uomini di russi questo è l'ultimo fotogramma prima che esploda quest'altro pure vedete viaggiano su queste camionette e questo è il drone un istante prima di colpire oppure come in questo caso questo è uno dei migliaia di casi documentati in cui il soldato russo di turno nel campo prova a lanciare il fucile o in questo caso l'elmetto verso il drone ma questo è l'ultimo fotogramma questo è il copione che vi devo dire perché non parlo delle perdite ucraine beh basta fare una ricerca andate a vedere su wikipedia il numero delle perdite ucraine è riportato ma se questo è il copione è chiaro che i russi ne hanno molti di più di perdite ma perché invadono il paese l'ucraina si difende i soldati ucraini stanno in posizioni difensive e per un operatore dronico ucraino che manda a segno 50 droni in questo esempio c'è un rapporto di 50 a 0 per darvi un'idea quindi è chiaro che anche gli ucraini hanno subito perdite e sono riportate vi passo il link in descrizione delle perdite ci sono ma comunque i russi ne hanno molte di più 720.000 uomini dall'inizio del conflitto vengono riportati in quelle pagine allora ieri nel video di ieri vi avevo accennato a una telefonata fra Trump e Putin in cui Trump pare che abbia chiesto di non proseguire con questa guerra di non continuare la cosiddetta escalation alcuni di voi mi hanno risposto guarda Enrico che questa telefonata non c'è mai stata vediamo cosa è successo perché innanzitutto io ho sfruttato questa notizia giusto per per spiegarvi per raccontarvi che la guerra sta continuando ad andare avanti e appunto Putin continua a mandare avanti uomini nel carnaio come in questo caso voglio dire non c'è nessuna intenzione di una riduzione del conflitto da parte russa in realtà la notizia di una telefonata fra Trump e Putin è iniziata a circolare l'altro ieri dal dal giornale The Guardian questo un po' il post scusate il Washington Post vi riporto non il The Guardian ha riportato la notizia il Washington Post ha affermato che il presidente Donald Trump ha parlato col presidente Vladimir Putin giovedì e ha discusso sulla guerra in Ucraina secondo fonti vicini fonti fonti vicine al presidente Trump la notizia poi non è stata né confermata né smentita però viene riportata da diverse diverse emittenti così come il The Guardian vedete questo è la CBC molti hanno parlato di questa presunta telefonata che cosa posso dirvi beh intanto penso che la fonte più attorevole sia appunto il portavoce di Trump che non ha né smentito né confermato la notizia la loro giustificazione è stata che le telefonate private di Trump non sono necessari non vengono necessariamente comunicata la stampa quindi si parla di voci di corridoio alla fine non è così importante come notizia che ci sia stata una telefonata fra loro due voglio dire la situazione sul campo non è assolutamente cambiata però ecco se posso dire la mia ci sono dei segnali che in qualche modo la Russia sta spingendo l'acceleratore per cercare di ottenere quanti più risultati possibili sia nella regione di Kursk che nel Donbass questo poi lo vedremo ora vi riporto anche al link di questa analisi alcune delle immagini non ve le posso mostrare però sono qualcosa come 15 16 18 20 quanti punti sono maledetto 23 punti di Just Because che fa un'analisi delle perdite russe nel conflitto dove riporta a un discorso che ho già fatto nei mesi scorsi sulla insostenibilità a lungo termine del conflitto dove c'è una continua riduzione dei numeri che la Russia pesca dai vecchi depositi e il fatto che continui a pescare sempre meno dai vecchi depositi è sintomatico del fatto che i vecchi depositi sono vuoti o che i mezzi sono così vecchi e in così pessimo stato che non vale la pena recuperarli poi questa analisi fra l'altro parla di un aspetto molto interessante della questione cioè il fatto che prendere un vecchio mezzo che è stato lì per 40 anni 50 anni in un deposito la sua rimessa in funzione e il trasferimento al fronte non è immediato ci vuole tempo bisogna recuperare pezzi ottiche motori è tutto molto complicato e il gioco deve valere la candela se il pezzo è troppo vecchio o troppo in pessimo stato non vale la pena recuperarlo e finché si parla di un mezzo da trasporto ok basta metterci un motore qualcosa per la trasmissione le ruote o i cingoli ok lo mandi avanti ma per un carro armato la storia è molto diversa perché ha bisogno di ottiche sistemi di difesa ha bisogno di pezzi per le armi eccetera eccetera insomma è molto complicato dopodiché il pezzo poi deve essere preso dai vecchi depositi e trasportato fino al fronte e questo richiede mesi giorni se non mesi quindi anche questo è molto complicato per cui secondo le stime di vari analisti non è solo come in questo caso ma ne ho visti molti il 2025 segna un po' il punto cruciale per cui la Russia a un certo punto non avrà più risorse per recuperare le perdite che subisce al fronte cioè il momento in cui il ratio di perdite supererà di gran lunga la capacità di produzione e rimessa in servizio delle vecchie glorie questo è un po' il ragionamento e vi passo il link in descrizione poi arrivano anche altre notizie sempre dal fronte questo è l'ennesimo caso di un gruppo di soldati russi che descrive sempre la solita situazione il generale che manda al centro di comando ordini di sola andata e i soldati si rifiutano e cercano di fare dei video dei video denuncia in cui descrivono la situazione perché per loro ovviamente non ha senso come si può pretendere che un soldato possa ottenere dei risultati sul campo se viene ammandato senza scorte senza cibo senza l'assistenza medica i feriti non vengono recuperati quelli che riescono a salvarsi che tornano indietro vengono rimessi in mezzo nel gruppo e rimandati avanti è chiaro che per loro è una situazione insostenibile e in qualche modo questo sarà il quinto o il sesto caso che vi riporto di gruppi di soldati che parlano in un video e cercano di diffondere le notizie la situazione per loro è insostenibile ieri vi ho parlato dei cittadini della regione di Kursk vicino Suja che avevano chiesto un incontro con il governatore locale la cosa interessante che viene detta in questo video è che questi cittadini dicono abbiamo supportato le elezioni del presidente Putin nel 2023 perché per noi è oddio guardate questa signora questa è in blu dice il loro portavoce dice noi abbiamo votato Putin nel 2023 dando il nostro supporto al nostro grande mitico leader però poi a un certo punto con l'invasione ucraina della regione di Kursk siamo stati abbandonati a noi stessi e con me ci sono tanti pensionati che non possono continuare in questo modo quindi insomma si lamentano della situazione perché ormai insomma sono passati mesi l'inverno incombe e non penso proprio che la Russia riuscirà a liberare la regione di Kursk in tempi brevi ora passando avanti mi collego anche qui a una commento sempre di un certo Kevin che mi diceva non è questo il modo di fare divulgazione sul tuo canale che parli solo delle perdite russe non è il modo di fermare la guerra ma non è l'unico a scrivermi una cosa del genere come se il mio sforzo che porto avanti ormai da mesi per portarvi queste notizie fosse in qualche modo inutile non penso nel senso se uno vuole fare una ricerca per capire come supportare l'Ucraina può farlo in tanti modi può farlo donando facendo donazioni aiuti umanitari ospitando dei rifugiati ucraini diventando un volontario medico può farlo in tanti modi uno di questi per esempio è coprire le notizie e scrivere sull'Ucraina e penso che il mio canale stia facendo un po' questo lavoro e penso che sia importante nel senso piuttosto che dare adito a certe informazioni che parlano della moglie di Zelensky che gira in Bugatti o altre idiozie che vengono dette al Parlamento europeo una cosa che possiamo fare tutti nel nostro piccolo è parlarne parlarne con altri amici che non sono convinti far capire insomma che coprire le notizie sull'Ucraina e fare arrivare a quante più persone queste tematiche sia importante anche per sensibilizzare quanto più possibile le decisioni che vengono prese anche poi dall'alto dai governi perché alla fine no cioè questo che fanno le democrazie a questo scopo mi collego proprio a un reporter di guerra Andrei Saplienko questo qui è un reporter di guerra ucraino le sue parole penso che siano davvero davvero interessanti ve le faccio sentire abbasso un attimo il volume e viene intervistato qui dove dice la libertà di parola è molto molto importante abbasso un altro po' la libertà di parola è molto molto importante è una cosa cruciale che ci aiuta a vincere questa guerra i media liberi stanno aiutando a vincere la guerra si dice un sistema di media liberi ci aiuta e ci aiuterà a vincere questa guerra perché noi non combattiamo per il governo non combattiamo per una persona in particolare come fanno i russi loro combattono per Putin dice noi combattiamo per noi stessi combattiamo per la nostra identità combattiamo per il nostro paese e per i nostri valori perché vogliamo il nostro paese libero e questo è tutto dice la giornalista descrive un po' la sua storia Andrei Sapienko ha una storia con la Russia dice è cresciuto come un cittadino dell'ex unione sovietica nella città di Archiv ha persino svolto il servizio militare con l'esercito con l'esercito sovietico fino alla fine degli anni 80 però a casa ascoltava rock americano e quella musica gli ha insegnato che poteva esistere un mondo democratico là fuori nel 1990 così firmò la richiesta insieme ad altri suoi amici chiedendo l'indipendenza dell'Ucraina da Mosca e dice fu una ribellione libera è pericolosa anche perché ci aspettavamo che il KGB venisse da noi e bussasse alla nostra porta è stato un movimento pericoloso dice la giornalista sì beh ci aspettavamo delle conseguenze ma allora non ci sono state conseguenze e invece l'unione sovietica un anno dopo è crollata quindi questo è un po' il discorso penso che l'informazione sia importante in questi giorni così come è importante riportare anche altre notizie come per esempio che la Russia sta armando e sta testando i suoi missili nucleari R-30 volava in nuovi siti di lancio questo giusto per ricordarci che insomma abbiamo una potenza nucleare che minaccia l'Europa continuamente chiaramente poi l'Ucraina e le sue la sua condizione viene sempre strumentalizzata e lo vediamo l'abbiamo visto in quasi questi tre anni di conflitto questo è il futuro cancelliere della Germania che dice se dovessi vincere le elezioni darei a Putin un ultimatum riguardo l'Ucraino l'Ucraina dice Frederick Merz se non si ritira entro 24 ore sarò pronto a fornire all'Ucraina tutti i permessi per utilizzare il missile Taurus parole sue comunque appunto le notizie vanno trasmesse e appunto per parlare di questo questo è l'ennesimo padre ne abbiamo già raccontato di un altro due mesi fa che ha perso tutta la famiglia allo stesso modo lui è l'unico superstite e ha perso due figli e una figlia dieci due e due mesi nell'ennesimo attacco di Mosca quindi questo è quanto per quanto riguarda il fronte la situazione è come sempre piuttosto drammatica è chiaro che nella regione di Kursk vediamo un po' la situazione esasperata per quanto riguarda i tentativi di Mosca di riprendere territorio che falliscono con questi assalti ma altrove la situazione non è rosa questo non l'ho mai nascosto nella regione a sud est i russi non hanno guadagnato mille chilometri ma mille e cinquecento chilometri quadrati che è diversa la storia mille chilometri sono da qui a qui tutto il fronte si sviluppa su qualcosa come mille e ottocento chilometri dalla Bielorussia fino a Odessa questi sono mille e duecento chilometri i russi non hanno guadagnato mille e cinquecento chilometri ma mille e cinquecento chilometri quadrati in questi ultimi due mesi ha un costo enorme enorme 40.000 uomini solo a ottobre per darci un'idea è chiaro che non possono continuare così per sempre in ogni caso i progressi più significativi li stanno ottenendo nella direttiva verso Kurakove fra l'altro questa è la notizia di oggi anzi di ieri in cui le forze ucraine hanno fatto brillare questa diga per evitare il passaggio delle forze russe in questo settore probabilmente stanno preparando la resistenza di Kurakove in queste ore e questo è quanto per oggi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima